Siamo con il barone Michael Peck von Peckhoz che è il proprietario di Our Beer ed è il tenutario del castello della casata che possiede e porta avanti questa tradizione birraria che dura da oltre 400 anni. Cosa si prova a portare avanti una tradizione di così lunga data? La mia famiglia è qui dal 1846 e ciò significa una tradizione molto lunga. Io ora rappresento la sesta generazione che birrifica con passione. È mio dovere continuare a fare birra e ad accrescere l'azienda. Confido che si possa continuare e ho la speranza che le mie due figlie proseguiranno con il mio lavoro in birrificio. In un mercato sempre più internazionale, quali sono le difficoltà che incontra un'azienda come la vostra? Io penso che la cosa più importante sia avere storia e avere tradizione. Noi le abbiamo entrambe. Il nostro birrificio è nato nella forma moderna nel 1590, ha 425 anni di attività. Noi abbiamo una bella storia e siamo in Baviera, è una zona conosciuta in tutto il mondo, per la birra e per la qualità delle birre. In ogni posto del mondo in cui si va, l'Octoberfest e la Baviera sono famose e questa, per un'azienda basata qui, è un vantaggio in più da sfruttare. La mia birra preferita, tra le nostre, è una birra speciale e l'Uppolata, che si chiama Hopful. È una Summer Ale leggera, con una gradazione alcolica del 5%. Il nostro mastro birraio sta usando un lievito per British Ale, in una birra nella quale utilizziamo diversi ottimi luppoli. Ci sono 7 diversi tipi di luppolo bavarese. Mi piace molto.